Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio Mettiamo il carbone che era finito Devo scendere un attimo nel coso della magia Per vedere se riesco a raccogliere quei blocchi lì Quei blocchi strani Scuri Perché vi voglio farvi vedere una cosa Questi blocchi qua sono veramente belli Si riesco a prenderli perché illuminano Allora scendiamo su Le sto morendo, le sto morendo Ok, ecco c'è chi Allora, vediamo un po' se riusciamo a prenderli Olè, riusciamo a prenderli Enderci stone, prendiamone un po' Ok, ne ho presi un po' Qua ho trovato anche questi qui Adesso io ho paura però che Mettendo poi le chiavi mi riapra le porte Speriamo Poi magari vengo a prendere altri Allora, allora, allora Andiamo a casa Vi faccio vedere un po' Oh, madonna Questo è il ciccione Ragazzi, mi stava... Mi ha distrutto la casa Mi stava distruggendo la casa No, io... No, li devo disabilitare Ragazzi Ah, ma forse romperono solo la terra Madonna Oh, madonna Oh, madonna Vai a cuccia Bobby Vai a cuccia Muori Crepa Fai finta di cadere Inciampa Se muoio Se muoio mi incazzo Se muoio mi incazzo Sono poi anche a livello 17 La sfiga Porca di quella cotoletta Vai a cuccia Oh, ma muori no Oh Brutto Caffone Madonna Ragazzi Se mi distruggeva la casa Mi incazzavo Salvo Ma mi ha distrutto Ma mi ha distrutto Guardate Ma porca di quella trota Dicomi Dicomi Ma dai Basta Devo mangiare Devo mangiare Allora Ricostruiamo qua veloce Così Così E poi aggiustiamo Madonna Che cavolo sto combinando Madonna Mio Devo disabilitare i ciccioni Ragazzi Non c'è niente da fare Allora Ok Sono riuscito a fare Solo questa parete E poi farò le altre Con calma E queste Queste cose Fanno luce Fanno veramente luce Tipo una torcia E Quando lo farò tutto Vi farò vedere Il pavimento Il pavimento Per farlo risaltare di più Lo farei in questo modo Allora Salviamo questi Lo mettiamo qua E vendiamo questi qui No Pirla Facciamo così Poi Quattro di questi Questi fanno questi Facciamo così No Facciamo L'imparare Facciamo così E così Che ne dicete Vediamo come viene Ok Poi continuerò Perché li ho finiti Mi ne sono massi Quattro Poi finisco Per me A me piace così Ragazzi Tutto scuro Con il pavimento Bianco Per me Verrebbe bene Che ne dicete Rispondete Come al solito Nei commenti E intanto 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 Vi dico Che da Luke È tutto Ciao a tutti Ma fanculo Sempre le canne La barbabietola davanti Ciao Why Grazie a tutti.